Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Per quale motivo mi trovo in un mondo completamente bianco? Perché oggi vi farò vedere delle costruzioni assurde, credetemi Tutto ciò che vedrete oggi sarà qualcosa che non avete mai visto in vita vostra Come per esempio questa costruzione gigante che inizialmente io credevo fosse tipo una tavola per giocare a scacchi Poi l'ho guardata meglio e ho detto aspetta ma gli scacchi qua non c'entrano nulla Non so cosa sia ma sembra super super strana È tipo una costruzione con un effetto ottico C'è tutto il pavimento che si sta abbassando per la forza di questa pallina che probabilmente sta rimbalzando per terra E devo dire che questa costruzione è fatta fin troppo bene Ed è tutta costruita in un mondo tutto bianco Sembra tipo quando negli episodi dei cartoni animati cancellano tutto quanto lo sfondo Comunque questa è una delle costruzioni più belle di questo video Ma vi posso assicurare ragazzi che quello che avete letto nel titolo e che avete visto nella miniatura è reale Oggi vi farò vedere la costruzione dell'intero pianeta Terra Qualcuno è riuscito a ricostruire interamente tutto il pianeta Terra E non vedo l'ora di farvelo vedere perché sarà anche in questo video Quindi mi raccomando lasciate immediatamente un bel mi piace e adesso ci spostiamo alla prossima costruzione Ed eccoci qua ragazzi alla seconda costruzione più bella di Minecraft Come dite sono soltanto delle isole volanti sulle nuvole No 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 Queste non sono delle isole volanti ragazzi Questa è una balena ragazzi Hanno creato una balena con i blocchi di Minecraft e l'hanno fatta diventare un mondo Guardate che figata Una balena gigante volante sopra le nuvole Avete mai visto una costruzione del genere? Guardate che figata assurda È incredibile perché se tu nasci tipo in questo blocco Non ti renderai conto mai e poi mai di trovarti su una balena Ti sembrerà un mondo di Minecraft un po' particolare Una mappa bizzarra con delle montagne di prismarino Se poi invece ti metti a volare e guardi il mondo da questa distanza Inizierai a capire tutto È una balena gigante di terra e pietra E quelle sono delle fantastiche nuvole ricostruite perfettamente Per creare alla perfezione tutto l'ambiente circostante E guardate 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 Gli hanno fatto anche la coda Beh cosa ne pensate ragazzi? E o non è una costruzione veramente assurda di Minecraft? E restando in tema di costruzioni assurde Avete presente il drago Balerion del trono di spade? La leggenda narra che Balerion oscurasse intere città Semplicemente con la sua ombra Per quanto fosse grande E siete pronti a guardarlo? No perché vi assicuro che vi lascerà senza parole 3, 2, 1 Questa è la costruzione di un drago più bella Che io abbia mai visto su Minecraft È letteralmente gigante Io adesso ho la render distance a più 30 E voi non riuscite a vedere neanche le sue ali Da quanto è grande Guardate La sua testa è grande quanto la mia Candy Craft Probabilmente E soprattutto i dettagli Che dettagli incredibili che ha Se soltanto io sapessi costruire così bene Mamma mia Avrei fatto il drago più bello del mondo a quest'ora Guardate le ali Quanto sono grandi E dettagliate Cioè Dai Dai Stiamo scherzando Quello lì è un villaggio di Minecraft Guardate quanto è piccolo a confronto Cioè È assurdo È un drago enorme Le ali sono giganti Le zampe sono giganti E là c'è anche la coda Che non riesco a vedere ancora la fine della coda Questo sembra tipo il serpentone Che ha percorso Goku Per tornare nella vita reale Guardate quanto è lungo Mi piacerebbe tantissimo riuscire A riprenderlo tutto in un'unica inquadratura Ma purtroppo i chunk non si caricano Vediamo Forse se metto a 32 Ok Li ho messi a 32 E Beh Sì Credo che ci siamo riusciti a caricare tutto quanto Vi rendete conto di quanto sia grande questa costruzione ragazzi Che io sembro una formica Sembro un microbo Rispetto a questo drago gigante Beh che dire Se non avete ancora lasciato mi piace Per queste costruzioni fenomenali Allora vi stupirò a fine video Ne sono sicuro Resta il fatto che tu sei il mio drago preferito Sei bellissimo Riconoscete per caso questo demone gigante? Non mi ricordo come si chiama Ci dovrebbe essere scritto Sur Surtur Forse Surtur Non lo so Comunque questo è il demone che si trova a inizio film In Thor Ragnarok Guardate che figata È gigante In pratica Thor era piccolo quanto me E il demone era grande così nel film E nonostante ciò Non ve lo spoiler Vabbè però è inizio film Comunque l'ha battuto Ok sì ve l'ho spoilerato Ma guardate che figata Il suo trono Una fiamma in mano E hanno anche ricostruito la sua spada in fiamme Va? Va? Guarda che bella Guarda che bella Eh? Quanto mi piacerebbe poterla impugnare Questa è la strada che dobbiamo percorrere Se vogliamo vedere la prossima costruzione Che è una riproduzione fedelissima Del Saint-Mont-Michel Non so come si pronuncia perché è francese Saint-Mont-Michel Non lo so Del Monte Michel Che per chi non lo sapesse Ci sono delle immagini molto molto famose su Google Di quel posto È una montagna su un'isola E ci hanno costruito una città Ed è bellissima E l'hanno ricostruita su Minecraft Siete pronti a vederla? 3, 2, 1 Boom! Guardate che figata Il tutto ricostruito in modo super fedele all'originale Sembra proprio di stare qui nella vita reale in Francia Mi piacerebbe tantissimo visitare quest'isola Però visto che per ora non si può viaggiare Direi di accontentarci di vederlo su Minecraft Guardate che figata Chi è che fa queste costruzioni? Chi è che riesce a ricostruire un'intera città Un'intera isola su Minecraft I costruttori migliori del mondo Come quelli che hanno programmato una mod Per ricreare tutta quanta la terra All'interno di Minecraft Utilizzando le mappe di Google Maps E adesso vi farò vedere di cosa sto parlando Siete pronti? Adesso ve lo faccio vedere State a guardare Crea nuovo mondo Creativa Opzioni E mettiamo Pianeta Terra Crea Come vi dicevo qualcuno ha ricreato l'intero pianeta La terra su Minecraft In modo estremamente fedele Con le coordinate di Google Maps Io adesso mi trovo sopra il Duomo di Milano Ovviamente non ci sono le strutture create dall'uomo Ma c'è soltanto il terreno Quindi possiamo vedere le montagne E le cose che non sono state fatte artificialmente Quindi io al momento sono sulle coordinate Del Duomo di Milano Questa è Milano Ok ok So che alcuni di voi sicuramente saranno confusi Queste sono le coordinate X, Y, Z E rappresentano la longitudine L'altezza E la latitudine La Y rappresenta l'altezza Quindi al momento siamo a 138 metri d'altezza Ogni blocco equivale a un metro Adesso siamo a 139 Adesso siamo a 140 Sapete quanto è alto l'Everest? 8849 chilometri Adesso vi faccio vedere come andare sull'Everest Su Minecraft Aprite Google Maps Cliccate col tasso destro Prendete la latitudine e la longitudine Dopodiché entrate su Minecraft E tutto ciò che dovrete fare è scrivere questo comando TP per teletrasportarvi Copiate e incollate tutte le coordinate che vi è dato E adesso dovete togliere la virgola E contare 5 cifre dopo la virgola Quindi 2, 3, 4, 5 L'ultima cifra sarà il 3 Quindi cancelliamo tutto il resto Togliamo la virgola E facciamo la stessa cosa qua Adesso non ci resta che aggiungere l'altezza Che quindi abbiamo visto 8850 chilometri E teletrasportiamoci sopra il monte Everest Siete pronti? Non mi credete? Puff Ecco Siamo sul monte Everest In cima all'Everest ragazzi Perché come vi dicevo Qualcuno è riuscito a ricreare tutto il nostro pianeta su Minecraft Ehi l'avete visto che le coordinate le ho prese da Google Non sto inventando nulla Ok ok non mi credete ancora E allora vi faccio vedere quanto effettivamente è alto questo monte Siamo ad altezza 8639 State a guardare Effect Colui che osserva Speed 250 250 Adesso ho messo la massima velocità E vi farò vedere quanto tempo mi ci vorrà Per arrivare ai piedi dell'Everest Guardate Questi sono tutti i blocchi di Minecraft ragazzi Questa è una montagna assurda e infinita dietro di me L'Everest Non siamo scesi neanche a 8000 blocchi ancora ragazzi Siamo a 8040 E devo continuare a fare questo giochino Fino ad arrivare all'altezza del mare Allora ragazzi facciamo un altro test Utilizziamo l'Italia Più precisamente lo stretto di Messina in Sicilia Andiamo nella punta della Sicilia Per vedere se riusciamo a vedere oltre Ovvero sulla Calabria Selezioniamo questo Prendiamo le coordinate Ormai avete imparato a utilizzarle Giusto? Basta togliere la virgola E contare 5 cifre dopo la virgola 1, 2, 3, 4, 5 Quindi dobbiamo cancellare fino all'altro 1 Togliamo la virgola Mettiamo un'altezza qualsiasi Facciamo 250 per esempio Qua dobbiamo cancellare al 2 Togliere la virgola Boom! Ci siamo teletrasportati adesso Vicinissimi allo stretto di Messina E non appena si caricherà il mondo Dovremmo iniziare a vedere il mare Quindi la fine della Sicilia Aumentiamo la render distance Cavolo mi crescerà il pc 49 E proprio come immaginavo Ci troviamo Sulla punta della Sicilia Davanti a noi c'è il mare E se vado avanti abbastanza Troveremo di nuovo della terra E questa volta sarà la Calabria Non dovrebbe essere troppo distante Perché comunque col traghetto Non ci metti molto Quindi dovrei riuscire a percorrerla Anche in questo modo Vediamo Dovremmo riuscire a vedere la terra Tra non molto Ovviamente per generare il tutto Ci vuole un po' Nonostante io abbia un computer super potente E una connessione a 1000 mega Ha comunque difficoltà Ed ecco qui ragazzi La terra ferma Ovvero la Calabria Beh io credo che tutto ciò Sia una figata assurda E si merita sicuramente un mi piace Quindi mi raccomando ragazzi Se non l'avete ancora fatto Lasciate un mi piace Dal vostro candle è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao